Unisco due domande, quella di Luciano e quella di Angelo. Entrambi leggono molto sulla materia Vipassana e sentono delle cose che in qualche modo, dopo un po', insomma, non capiscono bene, c'è della confusione. Ovviamente quella di Luciano è un pochino diversa da quella di Angelo, ma ne approfitto per rispondere entrambi, perché la risposta a uno completa la risposta dell'altro e perché in qualche modo arrivo alle stesse conclusioni. Quindi comincio con quella di Luciano. Luciano, per favore, aspetta poi anche di ascoltare la risposta d'Angelo, perché alla fine dico qualcosa a entrambi, ok? Allora, intanto cominciamo con Luciano. Di questa possono beneficiare, di queste risposte, tutti coloro che in qualche modo leggono sulla Vipassana, approfondiscono e poi dopo vedono che ci sono delle contraddizioni e non sanno bene alla fine come procedere. Quindi benvenga se rientri da questi. Qui potrai ritrovare una risposta e una via principale che ti aiuta a non confonderti più rispetto alle tante cose, anche apparentemente contraddittorie, che possono arrivare. Leggo intanto la domanda di Luciano. Ciao Claudio, ti seguo da poco e ti faccio i complimenti per il canale. Io tendo a essere molto esigente da me stesso e quindi la meditazione di visione profonda cerca di farla nel modo più completo possibile. Però spesso mi confondo le idee perché sono solito leggere molti argomenti su questo tema. Io solitamente inizio con dei respiri profondi per lasciare andare le tensioni. Poi mi radico alle sensazioni del respiro, alle narici o all'addome. Poi procedo con la scansione del corpo e delle sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutre. Processo accoglienza, attaccamento e rimango così nelle sensazioni del respiro, del corpo, ogni qual volta si presenta un pensiero. Vorrei sapere se questo modo di procedere è giusto e se corrispondi ai vari processi della Vipassana. Grazie. Allora, tecnicamente quello che fai va bene. Tecnicamente va tutto bene. Puoi procedere così. Non credo però, cioè è come se tu cercassi uno schema di cose da fare nella Vipassana. Ecco, la dimensione della Vipassana è una dimensione dell'essere, non tanto del fare. Quando però, visto che c'è, ci sono dei momenti di confusione nella Vipassana e quindi ci chiediamo che cosa dobbiamo fare, sicuramente il corpo, il respiro, in particolar modo il respiro, ci aiutano a rifocalizzarci. Quindi ogni volta che ti chiedi cosa fare, va bene portare l'attenzione al corpo e al respiro. E soprattutto all'inizio, all'inizio della pratica, abbiamo bisogno di focalizzarci, quindi abbiamo bisogno di appoggiarci a un oggetto come il respiro. Quindi va benissimo, tutto quello che stai facendo va bene. Tuttavia, se cerchi uno schema di cose da fare in Vipassana, questo schema stesso potrebbe allontanarti dall'esperienza del qui e ora, che è invece quello che cerchiamo di fare in Vipassana, cerchiamo di essere presenti nel qui e ora, che è la dimensione dell'essere, essere presenti a quello che ci sta accadendo nel qui e ora. Per essere presenti nel qui e ora, necessariamente abbiamo bisogno di sfrondare la mente dai mille pensieri, dai mille concetti, e il respiro, il corpo, la scansione del corpo ci può aiutare. Però ho l'impressione che tu faccia un po' un putpurri, prendi un po' di qua, un po' di là, va bene, ma attenzione a non pensare che la Vipassana sia solo body scan, che la Vipassana sia solo il respiro, ecco, o che sia un procedere dall'uno all'altro con una certa schema. Sapere se ci sono delle sensazioni piacevoli, spiacevoli, neutre, va benissimo, ottimo, meraviglioso, e già questo ti spinge a essere presente a quello che succede in te, per cui ecco, se c'è una sensazione come sto bene, sto male, c'è attrazione, c'è repulsione, c'è confusione, c'è ottondimento mentale, ecco, tutto questo ti riporta nell'essere, a processare quello che succede in te nell'essere presente a quell'esperienza che stai vivendo in quel momento, quindi va tutto bene. Va bene stare con quello che c'è, se invece cerchi una scaletta, certe volte potrebbe andare bene, certe volte potrebbe non andare bene, ma qui rispondo a questo punto ad Angelo, che formula qualcosa di più simile, e la sua risposta, la risposta ad Angelo, aiuterà anche a te, Luciano. E Angelo dice, ciao, ho letto molto sulla Vipassana e forse praticato poco, e mi sorge un po' di confusione riguardo al fatto che alcuni insegnamenti molto importanti, dice il Presidente, fanno interminabili gli elenchi di cose su cui appoggiare la mediazione, tipo i sette fattori di risveglio, se ci sono o no, le condizioni della mente, eccetera, eccetera, rendendo la meditazione forse un po' artificiale, ed altri che dicono genericamente di basarsi solo su quello che si sperimenta spontaneamente, su quello che si sperimenta spontaneamente. Alcuni sottolineano l'importanza della nimitta, ad esempio, e sembra che senza questo segno mentale la Vipassana non possono neanche iniziare, altri nemmeno lo citano, io non l'ho mai sperimentato, sono un po' perplesso. Allora, nimitta è un termine pali che non mi è chiaro neanche a me, molto, ti dico onestamente, non mi è chiarissimo, non mi è chiaro che cosa intendi con nimitta, quindi non ne parlo più di tanto. Però quello che noto è che questo nimitta lo chiami segno mentale e c'è un'aspettativa. Ecco, nella Vipassana non stiamo con le aspettative, stiamo con quello che c'è, stiamo con quello che c'è, quindi sicuramente è importante aprirci a quello che c'è, che è in parte quello che ti viene detto. Poi altri ti dicono di fare altre cose, altre tecniche, e adesso ne parliamo. Tendenzialmente, però, lo stare in visione profonda, e Vipassana significa stare in visione profonda, ci apre a stare con quello che c'è. Tuttavia la Vipassana è assolutamente la mediazione di consapevolezza per eccellenza. La consapevolezza, la presenza mentale, è quello che, quindi la mindfulness, è quello che noi sviluppiamo con una visione profonda. È proprio la qualità della presenza che ci permette di andare profondamente dentro noi stessi, e riguarda l'essere presenti a qualsiasi cosa stiamo attraversando. Tuttavia, è lì che può nascere un po' di confusione, ma nasce la confusione e c'è un motivo, e vale sia per te che per Luciano, ma te lo dico dopo, che fate un errore, e avete bisogno a questo punto di orientarvi da qualche parte, se no vi sentirete confusi sicuramente, però ci arriviamo fra un attimo. Comunque, Buddha, per sviluppare la sati, la presenza mentale, la consapevolezza, sati sta per consapevolezza, in realtà letteralmente significa attenzione, sati significa, tradotto letteralmente dal pali, significa attenzione, e quindi benvenga la mindfulness, intendendo come attenzione a quello che c'è nel qui e ora. Come si sviluppa sati? Ecco, Buddha ha fatto un discorso molto chiaro, molto prezioso, che è il Satipattana Sutta, quindi il discorso sui fondamenti di consapevolezza, detto anche Maha Grande Satipattana Sutta, quindi Maha Satipattana Sutta, grande discorso sui fondamentali di consapevolezza, di cui tra l'altro sto facendo un corso, un corso di grande approfondimento sulla Vipassana, è un corsaccio, 68 lezioni, 13 meditazioni guidate, che sono solo una piccola parte dei 36 esercizi contenuti in questo corso, tutti estrapolati da questo discorso, il discorso lo trovi liberamente in giro, ma potrebbe confonderti un pochino, che se cerchi Satipattana Sutta lo dovresti trovare, poi presto comunque lo offrirò anch'io, nell'offrire il corso a pagamento, sarà un corsaccio, quindi sarà anche un corso significativo, però ecco, nel presentare il corso offrirò sicuramente gratuito il discorso, con una mia traduzione, cioè non che l'abbia tradotto io, diciamo ho messo insieme i pezzi di varie traduzioni per renderlo per il corpo più comprensibile, perché non è sempre chiaro, insomma è capace che nel leggerlo in giro tu possa sentirti confuso, comunque ti invito comunque a cercarlo, perché ti aiuta a capire che la consapevolezza non è solo Vipassana, Vipassana è un processo, è un punto di arrivo più che un processo, perché il processo lo fa, lo prepara Samatha, la concentrazione, prepara uno stato mentale che è quello di Vipassana, però la consapevolezza può essere esercitata, può essere esercitata relativamente, per esempio, al corpo, relativamente alle sensazioni, relativamente agli stati mentali, relativamente al fenomeno dei sette fattori di risveglio, o relativamente ai fenomeni dei cinque impedimenti mentali, se c'è ottundimento mentale o no, tutte queste cose possono essere osservate, tutte queste cose esercitano, stimolano, creano le basi su cui poggiare la nostra consapevolezza, perché se noi siamo consapevoli di alcuni aspetti specifici e ci siamo allenati su quegli aspetti specifici, ecco che una visione a 360 gradi farà emergere con più dovizia di dettagli alcuni aspetti di noi. Se mi sono esercitato a capire se la mia mente è ottusa o è aperta, mentre sto in Vipassana mi accorgo più facilmente se la mia mente è ottusa o è aperta, se mi sono esercitato a sperimentare come il corpo è impermanente, ecco che mi è più facile notare il processo di un corpo che in questo momento mi sta offrendo un dolore sapendo che è impermanente e non attaccandomi a esso. capire che la mente è ottusa e che il solo sperimentare è capire ed essere presenti con consapevolezza nello sperimentare che la mente è ottusa, sappiamo che va bene comunque, quindi non andiamo a cercare una mente aperta laddove è ottusa, ma stiamo con quello che c'è, questa è consapevolezza. però diciamo che ci sono quindi delle meditazioni, ripeto, io ho fatto 36, da quel discorso ho tirato fuori 36 esercizi che possiamo fare per stimolare quella presenza mentale e quindi è giusto e sbagliato? Alcuni messi dicono di fare questo, altri dicono di fare quell'altro, è tutto giusto, non è che qualcuno ha detto delle cose giuste e qualcuno ha detto delle cose sbagliate, chi dice di focalizzarti sui sette fattori di risveglio sa cosa dice? Chi dice di stare con le sensazioni a 360 gradi senza necessariamente focalizzarti su un aspetto sa cosa dice? Il punto è tu chi segui? Perché e vale anche per Luciano, se leggete un po' a destra manca, va bene, ma è importante avere un maestro, è importante avere una persona di riferimento principale che sarà il vostro maestro di riferimento principale che è, diciamo, la vostra autostrada. Poi la conoscenza di un luogo ti permette di uscire dall'autostrada, andare a visitare un paesino, conoscerlo, sperimentare, a quel punto in quel paesino ci saranno delle regole dettate da quell'insegnante che c'è in quel paesino, che sarà il tuo insegnante di riferimento in quel momento, non è il tuo insegnante principale, ma in quel momento segui le regole che ci sono in quel paesino. Poi però sai che a un certo punto rientri nella tua autostrada e il tuo percorso è delineato, cioè in un maestro principale che ti porta da un punto all'altro e ogni deriva da quel maestro quindi ogni informazione aggiuntiva diventa fa parte del corredo, si aggiunge. Però se c'è confusione hai un punto di riferimento, hai qualcuno che ti dice ok adesso questa parte lasciala stare, la farei dopo. Oppure ti dice ok, quello significa quello che stavi facendo prima, capito? però messo in un'altra parola, insomma ti aiuta un pochino a non confonderti. Perché ti confondi? Perché mescoli le pere con le mele e non capisci più si parla di pere o di mele? Quando si parla di pere si parla di pere, quando si parla di mele si parla di mele. È molto semplice e ogni tanto si parla di frutta mista. Certo, se non hai un maestro che ti aiuta a fare esperienze diventa un problema. Quindi se ce l'hai io ti invito a porre queste domande al tuo maestro. Se non ce l'hai io ti invito a cercartene uno. Un maestro di riferimento principale. Un maestro a cui ricorrere ogni qualvolta tutte queste informazioni non trovano un loro spazio logico. Però ripeto, da un punto di vista tecnico va bene tutto quello che ti hanno detto. va bene tutto. In Vipassana stiamo con quello che c'è più o meno a 360 gradi ma talvolta può essere molto utile fare samatha. Focalizzarci solo sul respiro e non fare altro. Certe volte può essere molto utile fare un body scan. Certe altre volte può essere molto utile un body scan su cosa? Per esempio sulle sensazioni? o un body scan percependo gli organi all'interno del corpo la pelle le varie parti del corpo perché già sono tecniche diverse una riguarda il corpo e una riguarda le sensazioni. Nel Satipatthana Sutta gli oggetti di osservazione si dividono in quattro gruppi fondamentali alcune hanno più tecniche di riferimento una è il corpo poi una è le sensazioni una riguarda la mente e l'ultima riguarda i fenomeni il Dhamma o le nozioni buddiste diciamo così però le nozioni buddiste si basano sulla realtà delle cose così come sono sulla legge di natura Dhamma significa legge di natura e quindi è riscontrabile nella legge di natura come per esempio i setti fattori di risveglio il body scan io lo posso fare rispetto al corpo o rispetto alle sensazioni e già cambia già cambia quindi come vedi c'è tanta c'è tanta roba c'è tanta tanta roba si possono dire tante tante cose ma è importante che tu conduca la tua pratica con serenità e se ti senti confuso e fai questo genere di domande vale sia per Angelo che per Luciano o per chiunque si ritrova che ha approfondito tanto ma che alla fine non ha un punto di riferimento principale a trovarsi un punto di riferimento principale ci sono sicuramente io consiglio il mio maestro ci sono io guarda nella tua città se c'è un insegnante specifico c'è il monastero ovviamente più io invito a fare riferimento soprattutto ai monaci perché i monaci hanno un'esperienza un bagaglio di conoscenza un modo di portare questa conoscenza alla pratica che soltanto chi ha praticato così tanto come un monaco riesce a fare e c'è il Santa Cittarama che è un monastero importante di riferimento dove poter trovare dei maestri insomma siamo anche fortunati che in Italia abbiamo degli insegnanti di questo calibro per esempio una tradizione che comincia a essere abbastanza diffusa è quella di Goenka però intanto Goenka è morto e molti fanno riferimento a Goenka che era un laico che aveva imparato da Uba Kin che era un laico anche lui che a sua volta aveva imparato non so se era da un altro laico o da un monaco però ecco noi abbiamo dei monaci noi abbiamo dei monaci a cui fai riferimento direttamente ben venga io ho imparato da un ex monaco Tanavaro anche lui è un ottimo aesso a cui puoi far riferimento anche se non è più monaco sicuramente ha anzi per me ha un valore aggiunto dal mio punto di vista perché non è più solo dottrinale ma conosce per esperienza diretta tutte le dottrine ne ha aggiunte anche altre le ha integrate con altre quindi a me piace questo aspetto ci sono dei laici come me c'è il Corrado Penza che è una sua moglie meravigliosa ci sono tanti 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 messi trovane uno trovane uno che sia il tuo punto di definimento principale in modo tale da poter dare senso a tutte le cose che aggiungi a tutte le letture che fai e dare un'ordinata e un senso pratico a tutte queste cose bene non mi resta altro che salutare che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici a tutte le cose Grazie a tutti.